Monte Santa Croce è in fiamme, un vasto incendio è scoppiato nel primo pomeriggio e sta praticamente distruggendo la vegetazione su questo versante della montagna che collega Venafro a Conca Casale. Mentre scriviamo le fiamme hanno già divorato una quindicina di ettari di boscaglia ma spinte dal vento stanno ancora avanzando velocemente. L'incendio è partito da questo lembo di terra a bordo strada, ora delimitato. A seguito dei rilievi del nucleo anti incendi boschivi dei carabinieri forestali di Venafro sarebbe stato rinvenuto quello che tecnicamente si chiama reperto, un innesco a tempo probabilmente sistemato o gettato lì ore prima. Il lavoro degli investigatori procede in parallelo con quello dei vigili del fuoco, dei volontari della forestale e della protezione civile impegnati nel proibitivo compito di frenare l'avanzata delle lingue di fuoco. Un compito reso ancora più arduo dall'effetto spotting, ovvero dalla propagazione delle fiamme causata dal sollevamento in aria di tizzoni e corteccia in fiamme. Via Aria stanno operando un elicottero della protezione civile e un Ericsson S-64, il velivolo tra virgolette a proboscide, in grado di trasportare fino a 11.000 litri d'acqua. In pochi minuti distrutto un pezzo di natura che ha impiegato decenni per crescere. Bosco ceduo, pineta e olivi, la tipologia di vegetazione che sta andando in fumo. Più in basso, oltre alla strada provinciale, a qualche centinaio di metri in linea d'aria, sorgono delle ville, residenze private. Al momento non sono a rischio, ci dice un tecnico. Intanto quell'arteria stradale, l'unica via di comunicazione tra Venafro e Conca Casale, è stata chiusa al traffico. Poco oltre la barriera posta dalla municipale, un gruppo di persone curiose e vagamente preoccupate. Ho sentito degli scoppi sulla montagna, sono ordigni inesplosi della Seconda Guerra Mondiale, spiega un'anziana alla giovane vicina. Intanto, a pochi chilometri di distanza, anche l'incendio di Pozzilli, sedato ieri, è tornato a divampare.